Ciao a tutti, l'unico modo per sconfiggere questo invasore è fare quello che spero stiamo facendo tutti, ovvero rimanere a casa. Negli ultimi giorni siamo stati sommersi da notizie fake su come combattere il virus. Come dice l'esperto Carlo Dalatri, non serve assolutamente sbattere le stampelle per allontanare il virus. Il virus non muore all'ascolto di Puccino Pio. Il mio Pio è il Puccino Pio, il radio c'è un tacchino. Il virus non ha pregiudizi su quelli del Sud e non serve fingersi calabrese. E se oggi mi sono mangiata la soppressata. Portare le Hogan non allontana il virus. Non serve fingersi già contagiato per sviare il virus. Mannaggia, me lo sono proprio preso il coronavirus. L'unica è veramente rimanere in casa, che lo sconfiggeremo.